Non ce la faccio più, mi sento sconocchiare gli alluci dei miei. Vedrà, tra poco siamo arrivati. Non c'è mica più, vedrà io. Ma hai fatto fare 18 chilometri di spiaggia? Guarda che raccolto di poesie. Ma che me ne frega bene? Se te ne fregassi invece non ti accorgeresti di camminare. La donna ti ha dovuto tenerti in palla. Mi tiene in palla, eh? Dottor, mi manda Cicigno. Vuoi cercare da lui? Sì, ma parli bene l'italiano, insomma, si fa per dire, ecco. Sono mezzo figlio dei migranci. Papà è venuto a chi a fare fortuna. Diciamo che sta girando in donna la fortuna, ecco. E l'altro mese? L'altro mese mamma è brasilera, preta pura. Agora, se volete trovar Cicigno, mi deve andarmi il cruiseros. Ecco qua, ci pensa a mille cruiseros. Avanti. A testa! A testa? Claro. Claro, no? Claro, claro, claro. Ma tu è sicuro che sei figlio di emigrante? Sicuro. Agora voi dovete andare al suo scrittore a Santa Teresa. Ma non è facile trovarlo. E allora come facciamo ad andarsi, scusa? Se mi date 5.000 cruiseros, vi si porto io. A testa? Sì, è chiaro, è chiaro, è chiaro, è chiaro. Io ho scoperto che tu non sei né figlio di emigrante e né figlio di preta pura. Tu sei proprio figlio di puttana, nato. È chiaro. Andiamo, va.